Per la nuova stagione per la battaglia anti-racket e usura si è voluto trarre un bilancio sulla situazione delle iniziative e degli strumenti non profit, attivi in merito alla prevenzione e nel contrasto al racket e all'usura. L'assemblea napoletana anti-racket e anti-usura nella sala dei baroni a Mascriangioino ha visto la presenza anche del primo cittadino Luigi Magistris. Questi momenti di incontro servono per divulgare, far conoscere, far sapere che esistono dei punti di riferimento a cui le persone si possono rivolgere, il resto anche le ultime operazioni della magistratura e delle forze di polizia sono nate proprio da denunce di persone che sono anche rivolte ad associazioni come quella di Cuomo e anche altre. Quindi questo è importante, Napoli è una città che ha dei presidi importanti ma si deve ancora estendere di più a macchia d'olio in tutti i quartieri, l'imprenditore è onesto e coraggioso, non si deve sentire isolato. Emblematici di questo sforzo che dobbiamo compiere non solo come forze dell'ordine ma essenzialmente con la cittadinanza per sconfiggere una delle manifestazioni più importanti dell'essere crimine organizzato in questa città che è senz'altro quello dell'attività estorsiva, un'attività che in certi momenti sembra sopirsi ma che poi tende a riprendere perché è proprio connaturato con l'essenza delle organizzazioni camorristiche in questa città nella nostra provincia. Importante che i privati non si sentano soli ma grazie alle associazioni, alle istituzioni possano unirsi in maniera concreta e proficua. Sì, devono trovare innanzitutto la vicinanza delle istituzioni, sentirle vicine, ritrovarsela a fianco e anche il giorno dopo la denuncia fare in modo che quell'impresa possa continuare ad operare senza temere di essere isolata e senza essere penalizzata. Quella è la migliore vicinanza e possiamo garantire a fianco alle associazioni che hanno da svolgere il proprio impegno non profit sul campo.